Le postazioni di guardia medica di Montecchio e Gabice Mare resteranno chiuse anche per il mese di giugno. È arrivata la conferma infatti da parte della Regione Marche, la quale però garantisce l'apertura del presidio di Pesaro, ma solamente nel weekend. Una situazione complicata che prosegue ormai da tempo e in questi mesi non sono arrivate soluzioni o cambi di rotta, per quella che è a tutti gli effetti un servizio essenziale per il territorio. L'unica guardia medica disponibile sarà dunque quella del capoluogo della provincia, che sarà aperta solamente il venerdì dalle 20 alle 8, nei giorni prefestivi dalle 10 alle 8 e in quelli festivi dalle 8 alle 8. Una confusione causata dalla solita lacuna. La mancanza di medici non garantisce una copertura del personale per tutti i giorni settimanali, rischiando di conseguenza un sovraffollamento dei pronti soccorsi. Un'emergenza che rischia di peggiorare ulteriormente quando nel periodo estivo, con l'arrivo di turisti, un banale problema potrebbe comportare scomodità e tempi di attese interminabili. Per tutti i cittadini resta comunque attivo il centralino dell'ospedale di Urbino, che da aprile indirizza le telefonate tra le varie guardie mediche aperte del territorio. Se a Pesaro il presidio sarà chiuso, la chiamata verrà smistata ai presidi dell'entroterra, dove il medico di continuità assistenziale valuterà se effettuare una consultazione telefonica o invitare il paziente a raggiungere la guardia medica aperta più vicina. Una garanzia che non soddisfa i consiglieri Biancani e Vitri, che da mesi lamentano questa situazione considerandola inaccettabile. Sono oltre i sei mesi che una città come Pesaro, che è la seconda città delle Marche, ma anche il comune di Vallefoglia, anche il comune di Gabice, quindi tutto il territorio del pesarese, ma non solo perché lo stesso problema ce l'hanno fanno, ce l'hanno anche in altri comuni del nostro entroterra, non si trovano le guardie mediche e questa giunta regionale si è rappresentata dicendo che avrebbe non solo mantenuto i servizi esistenti, ma che avrebbe aumentato i servizi ai cittadini. Sono quasi oltre un anno e mezzo che sono arrivati, i servizi stanno continuando a diminuire, il servizio di guardia medica quando ce l'avevamo noi era comunque garantito e sei mesi in territorio senza guardia medica ritengo che sia veramente molto grave. A marzo era stato sottoscritto l'accordo tra la regione Marche e i sindacati per trovare un accordo che prevedeva un aumento delle tariffe orarie che potevano essere date ai medici che appunto decidevano di fare la guardia medica. Inizialmente il motivo per cui erano state chiuse era perché i medici preferivano fare o i vaccini o andare a fare i servizi domiciliari attraverso le USCA. Oggi questi servizi praticamente sono stati completamente ridotti e quindi non riusciamo veramente a capire il motivo per cui si continuano a dare questi servizi ai cittadini.